Amici di Cerro Alemide, siamo in diretta da Berlino Infa 2017 dove stiamo facendo conoscenza con il nuovo Nokia 8 L'abbiamo trovato all'interno dello stand di Zeiss perché come noto riprende la collaborazione tra Nokia e il produttore di lenti Di fatto c'è stato parte figlio da qui, c'è stato fatto vedere anche il nuovo doppio sensore che trovate incorporato nella parte posteriore del nuovo Nokia 8 Ecco qui vedete ci sono questi due elementi con ovviamente un flash LED nella parte posteriore Brevemente la scheda tecnica, abbiamo un display da 5,3 pollici con risoluzione QHD Uno di te che non è enorme ma ha una risoluzione molto alta che regala anche delle sensazioni molto piacere, mi sembra davvero molto bella Non solo, ovviamente c'è Android a bordo di questo nuovo Nokia 8 come gli altri modelli, quelli un pochino da faccia più bassa Android è una sua release stock quindi estremamente leggera Scheda tecnica da primo della classe, Snapdragon 835, 4GB di manuale Rans e 104GB di memoria a microgratti Ci sono anche le variazioni di colore qui esposte, qui c'è questo più scuro, questo sempre scuro ma con questa variante lucida E anche questo popper particolarmente luccicante e riflettente Bene, ci è venuta una gran curiosità di provare a fondo questo nuovo Nokia 8 Per ora ci approfittiamo di questo anche prima qui da IFA 2017 Un saluto da IFA Paparazzi